Il 501 per anni, per decenni, è stato il simbolo della crescita e dello sviluppo di Vibo Valencia. Oggi questa struttura, chiusa proprio qualche minuto addietro, che ritorna nelle mani del Tribunale, è il simbolo invece della decadenza di questa città. Resta simbolicamente quel lucchetto alla porta principale a chiarire che insieme all'albergo più noto e prestigioso della città si chiude un'epoca. Dentro soltanto gli operai ai quali è stato comunicato sostanzialmente il licenziamento. Questa mattina, improvvisamente, tutto si è interrotto, tutto si è fermato in un silenzio quasi spettrale. I lavoratori hanno lasciato le rispettive postazioni. Prima si è svuotata la reception, poi il bar, infine i corridoi. Una struttura apprezzata per lustri. Un nome, quello del 501, che ha fatto il giro della Calabria e dell'Italia, con i suoi balconi che si affacciano sulla costa degli dei. Ecco, tutto questo oggi è deserto, tutto questo oggi è desolazione.